E' la seconda volta che mi trovo in casa calabrese perché venne già a suo tempo in occasione della campagna elettorale quando ebbi il piacere di ascoltare dalla viva voce di Maria Lucia Spirito il programma amministrativo che avrebbe ovviamente rivolto alla gente. Fu sicuramente un successo elettorale la sorpresa probabilmente l'aspetto più significativo di quella campagna elettorale anche il risultato fu ottimo soltanto che per le norme per uno strano scherzo delle norme elettorali rinascita Galatea non si trova in consiglio comunale rinascita Galatea il nome già era tutto un programma. L'espressione rinascita torna non soltanto nel programma del movimento ma anche in tanti programmi forse in tutti i programmi che all'epoca si presentarono alla competizione elettorale. Mi trovo quindi adesso a parlare con Maria Lucia Spirito e con Giordano Calabrese che sono gli esponenti appunto direttivi del movimento. Il movimento continua la sua azione nonostante non sia presente in consiglio comunale. Continua la sua azione perché il progetto è forte, le idee sono significative e abbastanza importanti, non possono ovviamente durare soltanto per una semplice stagione, per una brevissima stagione elettorale. Torniamo a parlare di politica, sviluppiamo ancora il progetto quattro passi nella città del Galateo, diamo la voce a rinascita Galatea che è il primo partito di opposizione che incontriamo. Quindi mi trovo con Giordano Calabrese e Maria Lucia Spirito e a loro rivolgo questa mia prima domanda. Anche l'attuale amministrazione comunale, l'amministrazione Nisi, fa dei temi della rinascita e della solidarietà, forse della rinascita nella solidarietà, l'aspetto peculiare. La città del Galateo è anche un progetto di rinascita. Ecco, io chiedo se loro sono dello stesso avviso, perché mi pare che leggendo le loro note non siano del tutto d'accordo con questa mia affermazione. Direttore, io la ringrazio soprattutto della sua visita e della sua considerazione e della sua stima, perché anche se noi non siamo presenti come partito in Consiglio Comunale, sicuramente rappresentiamo ancora oggi gran parte della popolazione. Questa gran parte della popolazione noi la sentiamo scontenta, perché praticamente quello che noi sognavamo non si è realizzato. Io non avevo grandi ambizioni. Per me l'importante era che si dicesse, si arrivasse al pensiero, e che è al pensiero, all'azione, che alla fine la cosiddetta città del Galateo, con la sua solidarietà, con il suo amore per il paese, con la sua pulizia, con tutte queste belle parole, poi alla fine si concretizzasse. Questo non è stato, perché noi continuiamo a vedere le strade sporche, continuiamo a vedere la gente scontenta. In un periodo tristissimo di sofferenza sociale, vediamo che il nostro sindaco con la sua amministrazione continua a fare feste su feste, convegni su convegni. Quindi la solidarietà noi non la vediamo. E per noi, se questa per loro è solidarietà, per noi no. Dottore Calabrese, secondo quanto dice la sua signora, nel programma quindi amministrativo della Giunta Nisi, la solidarietà sarebbe soltanto teorizzata e non messa in pratica. E allora le richiamo una sua espressione, una vostra espressione, in risposta a delle domande che io vi feci, appunto, per posta, qualche tempo fa, credo l'anno scorso, dove voi parlate di logica della solidarietà e logica dell'utilità, affermando che quella dell'attuale amministrazione non sia assolutamente la logica della solidarietà. Ci spieghi che cosa significa logica dell'utilità? Allora, direttore, intanto definiamo una volta per sempre, perché sì, solidarietà, però la parola solidarietà può essere confusa, come spesso lo è, e poi alla fine finisce quasi col confondersi con l'utilità, con il significato di assistenzialismo e di utilità a questo punto, a proprio tornaconto anche di quello che si fa. Mi spiego meglio. Quando una persona è in uno stato di bisogno, è chiaro che si rivolge al suo rappresentante, al suo amministratore o ai suoi assessori, soprattutto in riferimento ai servizi sociali, in questo senso, perché si parla soprattutto di bisogni di natura sociale o di natura economica. Questo può essere inteso come un'arma a doppio taglio, perché? Perché lo stato di bisogno crea poi un rapporto di dipendenza e quindi si può confondere da parte sia dello stesso datore, gestore di questo beneficio e sia da parte di chi lo chiede il vero significato profondo. Perché? Perché di fatto credo che sia ormai arrivato il tempo, si sia maturato il concetto che bisogna superare questo concetto di solidarietà inteso come assistenzialismo e perché anche in questo forse ha peccato sino a mo' anche la Chiesa e anche la Caritas nelle sue espressioni. E si deve invece sviluppare il concetto di sussidiarietà, perché la persona che ha bisogno deve essere portata, quindi parlo già di persona e non di oggetto che si trova in uno stato di necessità, perché spesso la stessa persona, proprio perché in condizioni di bisogno economico sociali diventa un vero e proprio oggetto per propri utili, ecco qui entra in campo l'utilità, perché io vedo spesso che il politico, l'abbiamo visto sino a mo' come le cose sono andate avanti in Italia, ha fatto in modo che tutto torni sempre a proprio vantaggio e beneficio sino ad arrivare anche in casi estremi ai cosiddetti voti di scambio. Quindi la parola solidarietà dovrebbe essere superata se non soppiantata dal concetto di sussidiarietà. Che cosa significa sussidiarietà? La parola solidarietà è sul subsidium, cioè io sono di supporto, di aiuto, di aiuto non in senso di prevaricazione o quantomeno io mi sostituisco al soggetto bisognoso, ma cerco di informarlo, di aiutarlo in tutti i modi possibili per poter fare in modo che lui stesso diventi soggetto attivo e non più passivo in uno stato di necessità. Questo problema potremo poi svilupparlo in maniera più dettagliata con tutto quello che purtroppo a Galatone si intende fare con il concetto di solidarietà. Mi riferisco anche alla recente proposta del Banco di Solidarietà, la rete cosiddetta che si è voluta creare e quindi mi riservo eventualmente successivamente di approfondire questo aspetto. In effetti la dottrina sociale della Chiesa usa proprio questo termine sussidiarietà, anzi lo inventa, lo conia. E cioè, come ha detto lei, appunto molto opportunamente, l'aiuto serve per sollevare, per risolvere i problemi, perché il soggetto poi risolva da sé, grazie all'aiuto esterno, certo. Quindi mi sembra di capire, perché lei ha anche parlato di rapporto fra potere e politica. Nella politica cittadina lei non vede una politica come servizio, ma una politica come costruzione di consenso. Mi sembra di capire questo. Quindi politica come potere da esercitare magari in futuro. Vuole tornare sull'argomento? Sì, direttore. Dunque, il problema si fa ancora più interessante perché la sua domanda mi porta a riflettere su questo. Io cerco di, da quando non ho mai fatto politica, il mio mestiere è quello di essere medico, però mi sono reso conto a tardetà che è giunto il momento che ognuno di noi manifesti in maniera attiva quello che tutto sommato dovrebbe essere il patrimonio culturale, se non proprio profondo, che ci fa considerare cittadini. Cioè quello che viene a mancare, ecco perché credo che non si attui il vero concetto di politica ancora Galatone è il senso civico. Cioè cercare di poter sviluppare al massimo questa proprietà intrinseca in ognuno di noi. Quello che viene a mancare proprio a Galatone è proprio questo. Non c'è partecipazione attiva neppure quando ci sono i consigli comunali. Cioè io non mi sono mai interessato di bilancio, per esempio. Ma ho visto che quando si discute di bilancio preventivo o consuntivo la popolazione è completamente assente. Non sono mancato a nessun consiglio comunale in cui si parlava di bilancio. Perché? Perché mi sono reso conto che è dovere, se non un diritto di ognuno di noi, sapere come vengono gestiti i soldi dalla nostra amministrazione. E approfondendo alcuni concetti mi sono reso conto che effettivamente il bilancio, i bilanci comunali, perché poi il problema l'abbiamo sentito, a livello di amministrazioni comunali viene gestito male. La cosiddetta spending review di cui spesso si parla è un concetto proprio lontano anni luce dalle coscienze dei nostri amministratori. Perché non si parla solamente di spendere meno, ma spendere anche meglio. Cosa che purtroppo non si fa. Quando io vedo, ce l'ho qui con me, una delibera di giunta poi approvata dal Consiglio in cui si fa uso del fondo di riserva di 146 mila euro, questo nel bilancio del 2012. E la metà di questa somma viene, bilancio di riserva, quindi viene fatto uno storno, perché lo permette il Tuel, quando si tratta di quadrare i conti per il bilancio, per esigenze e gravi stati di necessità. Bene, le esigenze e gravi stati di necessità per cui è stato fatto uno storno ed è stato utilizzato il fondo di riserva non sono altro che le famose feste a cui faceva riferimento mia moglie. Quando invece, chiaramente, io credo, e qui entriamo sempre nel discorso del sociale e dei bisogni della gente, che se c'è uno stato di necessità da poter soddisfare e quindi da poter ricorrere al fondo di riserva per lo stato di necessità è quando invece si deve soddisfare il bisogno essenziale delle persone. Poi, dal punto di vista anche così di partecipazione e di bilancio sociale, qui entriamo anche nel concetto di bilancio sociale e bilancio partecipato. Non so se voi sapete che già esiste da tempo una legge nazionale che permette alle amministrazioni locali, quando non ce la fanno con i propri bilanci, a quadrare i conti, a concorrere all'evasione fiscale, si parla tanto oggi anche nella finanziaria di cercare di combattere l'evasione fiscale, di concorrere localmente all'emersione dell'evasione fiscale e tutto quello che l'amministrazione riesce a far emergere rimane per l'amministrazione che ha fatto emergere quello che è evaso. Ora, io ho qui con me, scaricato dal Ministero dell'Interno, un resoconto che risale al 2013 in cui c'è un elenco di tutti i comuni italiani che hanno per il 2012 fatto ricorso a questo e ci sono le somme stanziate dal Ministero dell'Interno ai comuni che sono riusciti a far emergere l'evasione locale. Bene, c'è veramente da vergognarsi nel vedere che guardando tutti i soldi che sono stati lasciati si passa da Milano 850 mila euro di evasione, si scende man mano giù, Roma più grande di Milano, 400 mila euro circa di evasione, Napoli ancora di meno, quindi mi viene da pensare ma tutti i grandi evasori sono a Milano, a Roma sono ancora di meno, Napoli ancora di meno. Arriviamo nel Salento, nel Salento ci sono solo quattro comuni, Lecce, Ruffano, Novoli e Casarano mi sembra, comunque quattro comuni dove l'emerso di evasione è intorno si aggira ai 100-150 euro. Ma ammettiamo che tutto questo sia vero. Mi chiedo, mi chiedo, se esiste per legge questa possibilità di attingere per i propri bilanci, per i propri fondi comunali, a quello che c'è di evaso in una cittadina, è possibile che solamente quattro comuni in provincia di Lecce abbiano fatto uso di questa legge dello Stato e che tutti gli altri siano... Allora mi chiedo, se a Galatone, come in tutti i comuni del Salento e i comuni d'Italia, si può... perché è un dato proprio di fatto, no? Non è che questi 200 miliardi di euro che vengono evasi annualmente sono una cosa così campatenaria. Evidentemente sono spalmati su tutto il territorio nazionale, nazionale, no? Ci saranno comuni dove ciò viene commesso di più, comuni dove viene commesso di meno. Ma a questo punto è dovere nostro civico innanzitutto pagare le tasse. Domenica prossima si parlerà proprio nel Vangelo dare a Cesare quel che è di Cesare, rendete a Cesare quel che è di Cesare, rendete a Dio quel che è di Dio. Quindi il primo concetto stesso che mi viene in mente è proprio questo, che un bravo cittadino, un bravo amministratore che paga le tasse e che quindi pretende che gli altri... non può essere un bravo cristiano, no? Sono due cose che si contraddicono. Quindi se esiste questa dal punto di vista proprio civico, sociale, questa possibilità di far emergere quello che c'è probabilmente di evaso a Galatone per poter fare cassa e quindi per poter risolvere anche i problemi di bilancio, a questo punto è necessario utilizzare queste possibilità che la legge ti offre per cercare di sempre andare incontro ai bisogni della gente senza portare per esempio la tasse al massimo sulla prima casa, senza poi utilizzare in maniera veramente bugiarda. Poi vi farò notare, le aliquote tari per i cosiddetti nuclei di cinque famiglie che abitano su 80 metri quadri. Non so se vi siete accorti delle proiezioni veramente ridicole che l'amministrazione ha pubblicato per così anticipare il concetto che loro hanno applicato il quoziente famiglia. quindi signore Maria Lucia ci sarebbe un uso improprio del denaro pubblico, nessun rispetto per la spending review e neanche oculatezza nel contenimento della tassazione a livelli più compatibili. quali sono gli errori secondo lei che fa l'amministrazione, che ha fatto l'amministrazione nell'uso di questo denaro? Allora direttore per continuare questa lunga risposta di mio marito posso aggiungere solamente che quello che io non vedo giusto e che comunque ripeto io sono portavoce di tanta altra gente che non vede giuste queste cose è quella eccezionale spesa che si fa durante l'estate galatea perché a un certo punto spendere tanti 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 soldi ogni sera ogni sera ogni sera ma dice il sindaco, dice l'amministrazione ma noi lo facciamo perché vengano i turisti io non ne vedo proprio turisti o poi questi turisti che sono arrivati che soldi ci hanno portato nelle casse del comune? io vorrei vedere qualche cosa, sentire qualche cosa di concreto questo è che allora secondo me se io non vedo qualche cosa di concreto e io non ci credo che questi soldi, cioè queste entrate ci sono allora questi soldi che il sindaco spende per queste feste potrebbe benissimo spenderle con la spendi review per i bisogni sociali poi c'è un altro discorso che non so se vuole che le dica adesso così una volta per sempre si chiarisce il fatto di quella famosa notte glamour che è da anni che contesto, non come notte glamour in sé anche perché quelle feste vicino al Santissimo Crocifisso erano state già iniziate con la vecchia amministrazione quando arrivò la brasiliana a ballare ma semplicemente io contesto il luogo perché è inutile che noi diciamo dal mio punto di vista e umilmente quello è un bellissimo luogo, quello è un luogo sacro bisogna avere anche il rispetto dei luoghi sacri perché se lei si è accorto, visto che c'erano 2000 come dice più persone come dice il nostro sindaco, il sagrato della chiesa il sagrato della chiesa è come se noi stessimo già in chiesa ed era strapieno di persone che bivaccavano e battevano le mani per carità, sarà una cosa bellissima però a me francamente come a tante altre persone che non parlano si lamentano ma non parlano, questa cosa non va potrebbero quindi trovare un'altra location perché oltretutto una piazzetta stretta oltretutto quest'anno il sindaco ha fatto degli abusi perché ha detto che avrebbe messo solamente dove là ci dovrebbero essere solamente 200 persone e poi lui stesso ha detto che ce ne sono state 2000 comunque sul discorso della sicurezza noi faremo una denuncia particolareggiata e quindi vedremo sul discorso invece del rispetto per luogo sacro vorrei almeno una volta che i sacerdoti il clero si svegliasse un pochino così come si è svegliato l'arcivescovo d'Ambrosio a Lecce perché i luoghi sacri vanno rispettati perché non dobbiamo dire che non ci rispettano i musulmani che non ci rispettano no, i musulmani e tutte le altre religioni ci rispettano loro vedono che noi ci ridicolizziamo da soli perché noi non rispettiamo la nostra religione allora una volta per sempre si dica se siamo cattolici o se siamo atei dopo di che si prendano le dovute decisioni ecco brevemente dottore per quanto riguarda tasi e tari mi sembra di aver capito che ci sono stati degli errori o delle incongruenze nelle decisioni nelle aliquote applicate dal comune ecco, vuole essere più preciso? allora direttore, sì dunque per quanto riguarda queste ultime tasse che fanno parte della IUC devo dire che a parer mio leggendo attentamente quello che è la normativa la tasi non è stata applicata così come si doveva innanzitutto la legge ti permette di far oscillare la tasi sulla prima casa dall'1 al 2,5% e così loro hanno applicato il massimo guarda caso mai si dice da a ma non si ferma mai nessuno al da si fa sempre a là ma quello che a parer mio è ingiusto se non addirittura illegittimo è il fatto che non si sia tenuto conto e lui addirittura il nostro sindaco si è vantato di questo che sulle seconde case lui si è vantato di non aver applicato la tasi cioè aliquota zero ma dovete sapere dobbiamo tutti quanti sapere che l'aliquota sulla tasi sulla seconda casa deve essere sommata al limo sulla seconda casa non superiore al 10,6% cioè la somma della tasi e del limo sulla seconda casa non deve essere superiore al 10,6% ora sulle seconde case si paga già al limo al 10,6% quindi di fatto non ci poteva essere una tasi non è un suo regalo ma ha fatto a parer mio un'ingiustizia perché? perché se la tasi è la tassa sui servizi indivisibili i servizi indivisibili godono dei servizi indivisibili sia i proprietari di casa che gli affittatari quindi sulle seconde case affittate bisognava far partecipare anche l'affittatario per la tasi la legge dice in una quota variabile dal 10 al 30% il che significava che se la somma della tasi e del limo sulla seconda casa era massimo il 10,6% l'imo sulla seconda casa doveva diminuire dal 10,6% che è il massimo e fare in modo che la tasi fosse in parte a carico del proprietario e in parte al carico dell'affittatario anche perché lo scopo della legge era quello pure di far emergere il nero l'affitto in nero o di facilitare a questo punto anche gli affitti se il proprietario di una seconda casa si vede ridotta l'imo per far pagare in parte questo è il concetto di tasi quindi prima secondo me incongruenza e irregolità applicata nella applicazione della tasi per quanto riguarda la Tari nel prospetto in cui la nostra amministrazione ha simulato quello che il beneficio delle utenze domestiche per i nuclei familiari fatti da 5 e più persone vedo qui nella loro simulazione pubblicata in delibera che un nucleo familiare che abita su 80 metri quadri composto da 5 persone paga nel 2014 286,77 euro a fronte di 257,6 che ha pagato nel 2013 con un aumento dell'11,32% quando invece sempre simulazione un nucleo fatto da 5 e più componenti che abita in 282 metri quadri a fronte di 908 euro pagati nel 2013 oggi paga 708 euro con una diminuzione del 21% ditemi voi dove stanno i benefici economici per i nuclei familiari che sono meno abbienti perché è chiaro un nucleo familiare fatto di 5 e più persone che abita in 80 metri quadrati produce la stessa quantità di nettezza urbana che produce un nucleo familiare di 5 e più persone che abita in 282 metri quadri nell'ultima puntata del portavoce mi sono incontrato con l'assessore a servizi sociali che mi ha parlato appunto degli indirizzi di politica sociale del comune e delle iniziative che sono state realizzate e cioè iniziative abbastanza importanti in particolare si è parlato di rete sociale e qui vorrei sapere se i vostri le vostre divergenze di idee vi portino al di fuori di questa rete sociale e quindi se pensate o se state attuando una forma di solidarietà parallela o sussidiarietà parallela rispetto a quella dell'amministrazione comunale o se è possibile e a quali condizioni che essendoci questa condizione si possa magari nel più breve tempo possibile ricomporre la frattura e marciare insieme Allora direttore io posso rispondere solo in questa maniera io non divergo dal loro modo di vedere perché non ho nessuna autorità per divergere perché è rinascita Galatea e adesso è diventato diciamo un piccolo movimento di controllo e comunque se lei ricorda io le dissi che anzi e poi si è visto che la nostra lista era diciamo costituita da tutta tra virgolette povera gente allora se questa povera gente ha bisogno non può fare rete con me per aiutare altra povera gente perché se già loro hanno bisogno per quello che riguarda diciamo l'aiuto concreto allora madre Teresa diceva diceva non non per però è una cosa che porto dentro di me madre Teresa di Calcutta diceva sempre io ho incontrato tanti poveri e tanti ne incontrerò però non mi posso occupare di tutti ma di quello che ho di fronte di quello di cui mi sto occupando io cercherò di fare per quello di cui mi sto occupando io cercherò di fare di dare il massimo allora noi come come famiglia cerchiamo nel nostro piccolo di dare il massimo anche col discorso della solidarietà e sussidiarietà però francamente quando in questi anni io ho cercato di dare il massimo anche dal punto di vista di fare diciamo di andare a scuola a parlare con gli insegnanti di alcuni bambini che non non erano figli di persone che se la potevano vedere da soli o quando sono andata a chiedere ai servizi sociali o quando e tante volte mi è stato risposto ma per questa famiglia o per quello ci siete voi allora il ci siete voi i servizi sociali non lo può la parola ci siete voi non lo possono usare perché io mio marito il nostro nucleo familiare anche la stessa rinascita galatea non 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 può sopperire non può fare quello che fanno i servizi o che dovrebbero fare i servizi sociali allora la divergenza non ce n'è modo di vedere diverso sì perché tante volte una cosa quello che si fa lo si deve fare anche con passione non perché io mi trovo davanti ad uno che per togliermelo davanti gli do 100 euro o gli fa no dobbiamo entrare nella psicologia delle persone la zona 167 se è rimasta zona 167 e perché a nessuno è venuto in mente di toglierli tutti là come stanno e di metterli in mezzo sotto casa nostra questo è quello che io non vedo bene e perché altrimenti gli steccati rimarranno sempre e noi ci troveremo domani in una società dove i nostri figli i nostri nipoti staranno malissimo allora o ci svegliamo e questo devono fare le persone più anziane di noi quelle come noi e soprattutto i giovani oppure non c'è non c'è speranza e non c'è futuro a proposito di zona 167 che hai citato all'interno della zona 167 operano le suore amicuriane no che si spendono in attività sociali di recupero di integrazione di formazione di istruzione eccetera però sentendo alcune vostre interviste o leggendo alcuni vostri documenti mi sembra che queste suore lamentino una una certa distrazione da parte dell'amministrazione comunale nei loro confronti cioè hanno dei grossi problemi dei quali problemi sembra che l'amministrazione non voglia farsi carico è vero? Lei direttore tocca un tasto difficile perché devo stare attenta anche a come parlo siccome io sono una persona molto passionale molto che mi arrabbio allora io sono tantissimo arrabbiata con la nostra amministrazione perché quelle suore che tutti credono delle suorine che stiano qua di passaggio che siano anche fastidiose sono tutte hanno sono tutte specializzate vanno ogni tanto ritorno nella casa madre a riprendere le loro specializzazioni sono suore amigoniane abituate abituate a stare con i ragazzi più difficili fin da dall'ottocento da quando è nata la loro congregazione e loro hanno fatto voto di povertà e tante volte questo viene questo fatto di aver fatto voto di povertà viene usato come arma perché gli si dice ma voi ci indignate nel chiedere soldi allora io vorrei chiarire che le suore non hanno mai chiesto soldi per loro ma dove stanno pagano l'affitto dove dovranno andare anche se gli sarà dato incomodato d'uso spero che gli sia concessa una dimora degna e che non gli si releghi in 4 metri quadri perché sarebbe veramente una cosa vergognosa questo perché so che loro hanno fatto richiesta per una sede alla provincia e spero che la provincia sia ben attenta a come viene usata questa sede non vorrei che alla fine le suore andassero a finire ripeto in un ripostiglio poi per quello che riguarda diciamo la zona 167 ritorno a dire quei ragazzi vanno assolutamente aiutati perché sono dei bravi ragazzi ora qualcuno sorriderà e sorriderà ma io ho avuto a che fare con quei ragazzi ho avuto a che fare quando una volta una sera li invitammo a venire all'arena a porte chiuse facemmo più di una sera facemmo dei cartoni animati e vennero una quarantina tra bambini ragazzi con le suore guardi direttore l'educazione che hanno avuto quei bambini o quei ragazzi io non l'ho vista nemmeno tra i figli di papà cosiddetti di papà ecco voglio proprio augurarmi che il sindaco Nisi e l'assessore ai servizi sociali raccolgano questo accorato appello di Maria Lucia Spirito la quale è passionale sì però vive in una maniera particolarissima direi il problema dell'assistenza ai bisognosi e tutti i problemi sociali è un problema grosso che lei mette sul campo ed è un problema che l'amministrazione comunale non può assolutamente ignorare si tratta di recuperare una importante area della nostra città e un grande numero di bambini che hanno bisogno di essere istradati opportunamente all'interno della comunità non è possibile l'esclusione di questi soggetti che sono un capitale fondamentale della nostra società mi rivolgo adesso al dottore Calabrese il quale ha indirizzato una diffida una lettera una lettera aperta al sindaco all'assessore eccetera in cui denunciava una grave omissione dell'amministrazione cioè quella di non aver utilizzato quella possibilità del comodato d'uso per dei libri per gli studenti delle scuole medie in considerazione dell'alto costo di questi libri e della difficoltà di tante famiglie di poter assicurare appunto questi strumenti ai loro figli allora caro direttore quel senso civico che si è abbastanza risvegliato in me mi porta spesso così utilizzando internet ad andare a spulciare tra le delibere e anche a livello nazionale e ho trovato perché questo di questo argomento come già ho detto abbiamo detto insieme a mia moglie nella lettera aperta ne avevamo parlato nella famosa Galatone Camp l'utilizzo dei libri incomodato d'uso perché so che fin dal lontano 2009 il Miurro aveva già mandato una circolare ministeriale esattamente la 1-2-3-6 del 2009 in cui invita espressamente per l'adozione dei libri di testo le istituzioni scolastiche nell'ambito della propria autonomia in relazione ai fondi resi disponibili l'utilizzo del comodato d'uso fin da lontano 2009 ora ho trovato in rete una lettera mandata il 28 maggio 2014 dalla regione Puglia a tutti i sindaci dei comuni d'Italia e per conoscenza ai direttori generali scolastici quindi in primo luogo ai sindaci erano informati di questa missiva che appunto compete ai comuni in sede dell'attuazione della norma prima citata predeterminare e pubblicare quindi rendere edotta la popolazione delle modalità per l'erogazione dei benefici ai soggetti richiedenti con particolare riferimento ai termini per la presentazione delle istanze di intesa con le istituzioni scolastiche ora il miurro quest'anno ha aumentato da 53 milioni di euro a 103 milioni di euro la disponibilità economica per attuare questo la regione Puglia andando a vedere le delibere di quest'anno ha ulteriormente aumentato i fondi destinati al comune di Galatone perché l'anno scorso sono stati destinati per questo scopo alle scuole di primo e secondo grado circa 23 mila euro quest'anno sono stati mandati il doppio 46 mila euro allora esiste questa disponibilità economica e qui ritorniamo alla cattiva utilità la domanda iniziale che lei ci ha fatto perché non utilizzare così come prevede la legge queste risorse per fare in modo che il comodato d'uso prenda piede perché poi tutto sommato il comodato d'uso non è altro che una risorsa economica perché i libri che tu compri quest'anno ritornano e possono essere riciclati e quindi i soldi che arriveranno l'anno prossimo possono essere ulteriormente utilizzati e si ampia il bacino d'utenza per la verità ho visto che il primo polo il primo comprensivo non so ecco il termine preciso ha fatto un regolamento il 30 settembre per l'utilizzo del comodato d'uso però onestamente ho da ridire perché è un regolamento che fa un pochino ridere in quanto a differenza di altri regolamenti si destina un libro a testa ed è vergognoso perché insomma si parla di libri incomodato d'uso il miuro stesso ha proiettato facendo le dovute indagini statistiche che sarebbero toccati al meridione almeno 8 libri a testa per un totale di 160 euro a famiglia allora esistono 46.000 euro destinati al comune di Galatone esiste questa disponibilità esistono questi circolari del miuro e della regione Puglia mandate allora va bene quest'anno non so per quali motivi si è arrivati in ritardo però per cortesia che gli anni successivi ci si adoperi al massimo anche perché e chiudo so che la costituzione italiana in modo particolare e all'articolo 30 mette in chiara luce quello che dovrebbe essere e dovere e diritto dei genitori mantenere istruire ed educare i propri figli nei casi di incapacità dei genitori la legge con le proprie istituzioni provvede a che siano assolti i loro compiti beh abbiamo parlato credo di cose abbastanza importanti è stata la gente di Galato nel centro dei nostri discorsi e soprattutto quella parte di gente che maggiormente sente la sofferenza e la difficoltà del momento del resto è questa la gente della quale voi sempre vi occupate ecco io vi ringrazio per l'ospitalità vi ringrazio per le parole che avete detto e quindi non ci resta che augurarci che la gente ascolti questa puntata e questa gente che adesso lo siamo felici di salutare buonasera a tutti io ringrazio il direttore e la gente che ci ascolterà scusate se in alcuni momenti divento un pochino irascibile quasi e passionale però le cose in cui che esprimo ci credo fermamente la mia non è credetemi una critica diciamo così distruttiva nei riguardi l'amministrazione penso che il massimo non si possa il massimo sta solamente in un altro luogo da raggiungere però è compito di tutti quanti noi io invito soprattutto i giovani i ragazzi a rinascere ecco a che si svegli in ognuno di noi quel senso civico che può dare il suo contributo a migliorare la città del Galateo io invece adesso invito quelli della mia età più anziani più giovani e soprattutto quelle signore che stanno nei circoli a chiacchierare o a per carità possono fare quello che vogliono e a giocare a carte allora insieme al gioco delle carte qualche volta pensino che la vita degli altri certe volte non è come quella nostra ci sono fuori persone che hanno bisogno famiglie che hanno bisogno pensiamo che alla fine viviamo stiamo tutti nella stessa barca e se siamo un po' più solidali tra noi forse saremo tutti meglio e saremo tutti più contenti grazie grazie grazie